Chi non sa perdonare non ha ancora conosciuto la pienezza dell'amore. Papa Francesco ha spalancato un'altra porta santa, quella della Basilica di Santa Maria Maggiore, e ha invitato tutti a schiudere le porte del proprio cuore alla misericordia del Padre, con piena fiducia e senza alcun timore. Un cammino certo non facile, quello del perdono, tanto incompreso dalla mentalità mondana, eppure frutto proprio della fede cristiana, di cui Maria, che ha generato nel suo grembo il volto stesso della Divina Misericordia e con lui appatito ai piedi della croce, diviene icona per eccellenza. La forza del perdono è il vero antidoto alla tristezza provocata dalla rancore e dalla vendetta, ha insistito il Pontefice nel corso dell'Omelia. Il perdono apre alla gioia e alla serenità perché libera l'anima dai pensieri di morte, mentre il rancore e la vendetta sobbillano la mente e lacerano il cuore, togliendoli il riposo e la pace. La madre del perdono insegna alla Chiesa che il perdono offerto sul Golgotha non conosce limiti. Non può fermarlo la legge con i suoi cavilli nella sapienza di questo mondo con le sue distinzioni. Il perdono della Chiesa deve avere la stessa estensione di quello di Gesù sulla croce e di Maria ai suoi piedi. Non c'è alternativa. Alla fine della celebrazione Papa Francesco si è recato nella Cappella Mariana in cui è custodita l'icona della Salus Popoli Romani. Qui si è raccolto in preghiera qualche istante prima di recarsi all'esterno della Basilica per salutare i presenti. Aprite il vostro cuore alla misericordia, ha detto augurando a tutti un buon anno. Spalancate il vostro cuore perché ci sia la gioia e la letizia del perdono di Dio.